Viene spintornata all'interno dell'attività commerciale dove lavora e, cadendo a terra, batte la testa. Indaga la squadra anticrimine del commissariato di Sulmona, coordinata dall'ispettore Daniele Lerario, sull'episodio verificato sin e tardo pomeriggio di ieri nel centro storico di Sulmona. Poco dopo le 19 la commessa di un negozio cinese sarebbe stata aggredita da un uomo che subito dopo si è dato alla fuga. Una spinta, le mani addosso e qualche parola fuori posto che ha spinto clienti e passanti dell'attività commerciale a contattare 113. La commessa dopo l'aggressione, per futili motivi, avrebbe battuto la testa e sarebbe stata soccorsa da un anziano che circolava nella zona. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per l'esercente che ha raccontato tutto alla polizia che ora dovrà risalire all'identità dell'uomo. Stando alle prime informazioni raccolte dai testimoni, sembrerebbe che si tratti di un signore alto e sicuramente italiano. Gli uomini di un anticrimine si sono già messi a lavoro e stanno verificando se il locale è dotato di sistema di videosorveglianza. Per la donna si trattava solo di un brutto spavento, ma le indagini della polizia sono scattate d'ufficio e caccia all'uomo.